Il fumetto arriva a narrare le vicende custodite nell'archivio di Stato di Napoli. Topolino protagonista con il ciclo di storie ispirate alla documentazione conservata nel grande archivio napoletano. Il team di Panini Comics ha infatti elaborato 5 fumetti ad hoc, che saranno pubblicati a partire dalla fine del mese di aprile, nel corso del 2024, per essere poi inclusi in una raccolta speciale. Queste storie raccontano ai lettori l'importanza di quella che è la casa delle storie, come Candida Carrino ha chiamato questo luogo, ed è questo proprio il nome del ciclo di storie che compaiono sul Topolino.